Riconquistare il futuro è il titolo del convegno organizzato dall'Associazione Centro Studi Economie e Territorio che si svolgerà al Tag Hotel a Bellocchi di Fano. A prendere parola saranno Gabriele Magrini che è il direttore della Banca d'Italia delle Marche e poi Giorgio Giovannini, nuovo direttore di Creval Carifano S.P.A., Alessandro Berti, docente di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università di Urbino Carlo Bo e il consigliere regionale Mirko Carloni. Dunque questo sarà un incontro, un'occasione importante per riflettere sull'attuale ma anche sulla futura situazione economica marchigiana. Sono Jacopo Fattini, presidente dell'Associazione Centro Studi Economie e Territorio che ha organizzato l'evento dal titolo Economia delle Marche e Riconquistare il futuro. L'associazione è attiva da più di tre anni e in maniera costante e proficua ha sempre cercato di organizzare momenti di riflessione sullo stato economico e sociale del nostro territorio. Jacopo sei il presidente dell'associazione che ha organizzato questo convegno e che è nato nel 2014. Quali sono gli obiettivi dell'associazione ma anche qual è l'obiettivo di questo incontro? Beh sicuramente l'associazione ha come prerogativa principale quella di analizzare il contesto economico e sociale attraverso la prospettiva di personaggi illustri che ci possono fornire una visione privilegiata di un osservatorio comunque affidabile di quello che sarà il percorso di crescita soprattutto del nostro territorio e non solo. Il convegno di questa sera dal titolo Riconquistare il futuro ha analizzato il tema bancario ed eccesso al credito attraverso anche i dati forniti da Banca d'Italia regionale. Abbiamo potuto vedere in concreto quali sono soprattutto la situazione attuale nel nostro territorio e quali sono anche gli investimenti, le prospettive che possiamo avere per crescere ancora e per migliorarci sia come territorio ma soprattutto anche come città. Quindi permettono insomma un po' confronto istituzioni, i cittadini, appunto chi invece lavora nel credito anche per riflettere e conosce. Beh certo, sicuramente come associazione non abbiamo voluto rimanere solamente nel teorico ma siamo voluti scendere molto nel concreto attraverso il parere del professor Berti che insegna economia degli intermediari finanziari Urbino, il nuovo direttore di Creval Carifano il dottor Giovannini, il consigliere regionale Carlone che è stato presente di commissioni d'inchiesta su Banca Amata, il dottor Magrini. Quindi una serie di personaggi che hanno potuto attraverso la propria esperienza e la propria competenza fornire nel dettaglio quelli che sono gli scenari attuali ma soprattutto quelli che sono i numeri. Perché bisogna ragionare i numeri e da li capire per attuare dei cambiamenti. Io mi sono chiesto qual è il futuro del rapporto banca-impresa, questo menage di cui quando ormai, ahimè nel senso che l'anno prossimo ne ho 60, quando ormai più di 30 anni fa ho cominciato a occuparmene accademicamente era il tema. E a mio parere è rimasto tale, in un paese come il nostro, Banco Centrico, dove le imprese si rivolgono alle banche per finanziare i loro fabbisogni, il rapporto banca-impresa continua a essere l'osservato speciale. Berti, lei oggi ha spiegato un po' il rapporto banca-imprese. Qual è il futuro, visto che ci sono sempre meno banche e purtroppo anche sempre meno imprese? Il futuro è sicuramente un futuro impegnativo. Io sono positivo per il mio carattere, ma penso di dover essere positivo anche perché non vedo come si possa andare avanti senza passi da compiere sicuramente, congiuntamente, sia da parte delle imprese sia da parte delle banche per cercare di comprendersi meglio. Le imprese devono sicuramente saper spiegare meglio se stesse i loro progetti, le banche devono condividere maggiormente la loro capacità di giudizio e aiutare anche le imprese a capire dove sbagliano. Credo che, come sempre, ci sia molto da lavorare. Sono positivo sotto questo profilo. Certamente occorre una cultura diversa delle relazioni e dei rapporti che stenta in Italia, ma ha sempre stentato a emergere. Quindi conoscenza e consulenza aiutano allo sviluppo? Conoscenza, consulenza, formazione. La formazione fatta alle imprese, la formazione fatta anche nelle banche. Le banche ne hanno fatta tante in passato. Forse in questo momento avrebbero bisogno di mirarla di più, mirarla maggiormente su alcuni aspetti. Però la misurazione del rischio di credito, ma poi che vuol dire anche misurare la performance aziendale. Sicuramente le imprese hanno bisogno di non essere lasciate sole. In questo credo che sia il ceto professionale, da un lato, ma anche le associazioni di categoria abbiano un ruolo. Questo ottimismo che lei ha lo trasmette anche ai suoi studenti? Dunque, io cerco di trasmettere ai miei studenti, oltre a quello che devo insegnare loro, sicuramente un modo di vedere la vita positivo. Io credo di averlo. Spero che non si annoino, come spero che la gente questa sera non si sia annoiata. E speriamo anche di un futuro più rosio a questo punto. Assolutamente sì, che bisogna sperare sempre. Grazie a lei. Il tasso del decadimento del credito, perché ci dà un po' il contesto di dove operano le banche, quali sono le difficoltà, e anche nella regione Marche. Il tasso del decadimento del credito non è altro che il rapporto di quelli che sono i finanziamenti passati a sofferenza rispetto allo stock dei finanziamenti preesistenti. Ora, se voi guardate quel numero, che ci vede secondi in Italia dopo l'Umbria, e ben più alti di quella che è la media italiana, che vedete cerchiate più o meno metà di quella tabella, che è il 2,27, noi siamo al 3,66. Che cos'è oggi, dottor Giovanini, Carifano dopo l'ingresso in Creval, visto che è stata la sua prima uscita pubblica, insomma, dopo quanto è successo? Carifano è oggi ancora più forte che in passato, anche perché è entrato in un gruppo che ha grande attenzione per gli aspetti del proprio territorio, e quindi direi che, come ho già detto, è molto più forte e ancora può essere molto più attenta a quelle che sono le esigenze del territorio per poterle soddisfare. Quali sono oggi le vostre scelte strategiche? Le scelte strategiche, che ho illustrato poco fa nelle mie parole, sono quelle di varare un piano industriale, diciamo così, che ci può portare a essere ancora più forti, essere ancora più presenti e poter, nuovamente, come dicevo prima, soddisfare le richieste, avendo le capacità per poterlo fare. Invece, per aumentare il capitale, qual è il vostro piano? Beh, direi che gran parte del piano si fonda, anzitutto, sull'aver redatto un piano industriale assolutamente credibile, con dei numeri raggiungibili, tanto è che, come abbiamo raccontato, Mediobanca già pregarantisce l'aumento e dal 29 novembre anche Citigroup è aderito a pregarantire l'aumento di capitale. Quindi direi che tutto si basa su un piano sicuramente ambizioso, ma sicuramente raggiungibile. Sulla vostra presenza, invece, sul territorio e quindi le filiali, in che modo, insomma, stanno andando avanti questo processo? Noi manterremo una forte presenza su questo territorio e le scelte che sono state fatte in ordine alla razionalizzazione delle filiali sono state fatte per raggruppare in filiali a poca distanza da quelle che sono state eventualmente chiuse una maggiore professionalità, in quanto quello che chiede il mercato non sono più esclusivamente operazioni di base come quelle che si fanno allo sportello, ma sempre di più si va in banca per affrontare e risolvere i problemi e quindi la banca deve offrirgli in ogni filiale quella specializzazione e quella capacità professionale per poter affrontare quei problemi. Riprendo per concludere una frase che lei ha detto poc'anzi, ovvero che Carifano è all'interno di un gruppo che ha le spalle solide. E' assolutamente così, altrimenti non riesce a stare su questo mercato che è sempre più competitivo, sempre più sfidante e non riesce neanche a soddisfare le richieste delle famiglie e neppure delle imprese e quindi è assolutamente così. La prima cosa che mi sembra opportuno richiamare è ricordarsi che le banche sono imprese. Se voi avete imprese avete visto come il credo valetellinese, ex Castelli Spagno di Pano, racconta l'impresa con problemi di impresa. Se avete imprese vedete che sono problemi di conto economico, problemi di ricavi, volume di attività, fatturato, chiamiamolo così. Perché in realtà le banche sono imprese e questo non bisogna mai dimenticarlo quando noi abbiamo queste relazioni. Dottor Magrini, secondo lei, insomma, spiegava prima che stiamo uscendo un po' da questa crisi. Da cosa si percepisce questo sviluppo? Noi abbiamo una serie di dati tendenzialmente positivi, con segno più. Quando noi facciamo queste rappresentazioni dei dati passiamo dagli anni che erano invece preventivamente segni negativi ad anni con segni positivi. Quindi che si stia uscendo dalla crisi con passi avanti su tanti profili, la produzione, esportazione, abbiamo anche i tassi di mortalità delle imprese, i fallimenti si riducono. Abbiamo una serie di indicatori globalmente positivi, poi sono differenziati da settore. Quando poi si va sullo specifico ci sono settori che ancora sono un po' in difficoltà. Noi penso alle calzature che hanno ancora un segno leggermente negativo, però abbiamo la meccanica che vanno molto forte. Quindi abbiamo globalmente la sensazione di un sistema che sta ripartendo, sta ripartendo in parte anche il mercato interno, in maniera abbastanza positiva, però molto lentamente. E' questa lentezza che un pochino ci rammarica perché ci piacerebbe maggiore velocità per poter avere anche una creazione di maggior numero di posti di lavoro, che è il crucio fondamentale. Una delle funzioni principali di Banca d'Italia è proprio quella di vigilare. Quindi voi ogni anno effettuate proprio degli studi sull'andamento dell'economia. Sì, noi tutti gli anni facciamo delle analisi, facciamo delle indagini locali sulle imprese, sulle banche, dopodiché pubblichiamo due rapporti, uno a giugno e uno a novembre e continuamente nel corso dell'anno facciamo poi una serie di approfondimenti su tematiche specifiche con la collaborazione degli operatori locali, queste servono per le nostre pubblicazioni regionali, ma contribuiamo in maniera importante anche quelle nazionali. Da quelle nazionali emergono poi con la collaborazione di tutte le altre regioni italiane e le differenze fra regioni e per questo noi insistiamo molto quando vediamo che una regione va un pochino lenta perché cerchi poi di capire il perché va lenta e cosa deve fare per recuperare velocità nello sviluppo. Vediamo dei dati un'economia che cresce a livello globale anche all'interno dell'area euro, ma la situazione marchigiana qual è complessivamente? La situazione è quella di una regione che manifesta dei segnali di ripresa ma che ha ancora delle difficoltà a mantenersi sullo stesso passo del resto dell'economia nazionale. Quali sono i settori che soffrono maggiormente? La nostra è una regione a vocazione industriale e manifatturiera. Nell'ambito in questo settore abbiamo la meccanica che offre delle performance brillanti e dei settori tradizionali, come ad esempio il settore calzaturiero, che continuano a stentare. Le famiglie invece chiedono ancora mutui per quanto riguarda le abitazioni? Sì, dalle famiglie provengono segnali positivi sia per quanto riguarda la domanda di finanziamento e sia per quello che è il clima di fiducia. Sono comunque degli elementi che dovranno consolidarsi, date anche le tensioni sul mercato del lavoro. Secondo lei quali prospettive abbiamo davanti a noi? I settori fanno comunque difficoltà a riprendere il loro lavoro? Pensiamo ad esempio al settore edile. Quindi secondo lei quanto tempo ci vorrà per uscire un po' da questa crisi che ha fortemente colpito anche l'Italia? Per quanto riguarda in particolare il settore dell'edilizia, i dati che noi abbiamo raccolto suggeriscono che la fase più critica potrebbe essere alle spalle. I segnali restano positivi per quanto riguarda l'attitudine delle famiglie a esprimere una domanda. Speriamo però che questi segnali possano tramutarsi presto in dati entusiasmanti sul versante delle transazioni e dell'attività economica. Tutti i grandi istituti bancari in questi giorni stanno facendo conferenze stampa, si stanno presentando i loro bilanci. Ieri un'incredita a Londra, l'intesa a Bologna. Sembra il momento in cui tutte le banche hanno l'esigenza di raccontare quello che vogliono fare, le loro strategie. Probabilmente è anche un momento in cui è necessario riattivare un dialogo, un'informazione, una discussione con l'opinione pubblica su quello che è il futuro e quello che vogliono fare gli istituti bancari. Carloni, l'Assemblea legislativa delle Marche ha patrocinato questo convegno. Fra l'altro lei diceva che partecipa un po' a tutti i convegni che organizza questa associazione per cui crede innanzitutto in questa conoscenza delle informazioni. Io credo che quando si parlano di tante cose in una realtà come la nostra ma non si parla mai di economia si evita di così confrontarsi anche sui problemi reali perché i problemi ci sono due modi per affrontarli. Uno è cavalcarli cercando di strumentalizzare la paura e anzi di fomentarla e l'altro è quello di capire, di sbattere il muso contro la realtà cercando di capirla, cercando di leggerla e dalla lettura, dall'analisi della realtà trovare anche la soluzione in un confronto informato. Nel mondo delle banche questo è ancora più fondamentale perché emerge ovviamente in modo drammatico la sfiducia che hanno i cittadini verso il sistema bancario e in qualche modo questo è ripagato anche da una certa difficoltà con cui c'è un'accensione dei mutui, c'è un impiego in questo momento nel nostro territorio che ha avuto, non lo dimentichiamo, l'abbiamo ricordato, una drammatica vicenda che è probabilmente tra le uniche in Italia, quella di Banca Marche, di cui ho potuto seguire la vicenda come Presidente della Commissione di Indagine, che ha travolto dopo la prima crisi creandone un'altra, di fatto una crisi finanziaria senza precedenti, il nostro territorio. Gli effetti sono stati drammatici, patrimoni privati investiti in obbligazioni subordinate azzerate, quindi magari famiglie che avevano investito tutti i loro risparmi in queste obbligazioni, aziende che si sono trovate dall'oggi al domani senza affidamenti, senza poter continuare a operare con la liquidità con cui erano abituati, quindi complessivamente una situazione che ha portato oggi senza ripercorrere tutta la storia un clima di sfiducia totale verso il sistema bancario. Ci sono istituti importanti come il Creval che ha una loro sede di rappresentanza che è la nostra prima banca cittadina, che è la Carifano, che sta facendo importanti passi nello smaltimento degli NPL e nel rafforzamento della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Questo deve essere raccontato in modo adeguato come deve essere raccontata la situazione dell'economia marchigiana che, grazie al lavoro di Banca d'Italia, che non si occupa solo della vigilanza bancaria ma ha anche una funzione di analisi e di informazione, è opportuno affrontare per capire come stanno andando i trend nelle Marche, che cosa sta funzionando, che cosa non sta funzionando e anche capire, traguardare il perché ci sono dei settori che dovrebbero essere in crescita agganciando un po' la ripresa di cui l'Italia intera sta sentendo l'odore mentre le Marche non partecipano a questa ripresa. Questo, onestamente, sia chi fa politica, chi fa l'imprenditore, chi fa il professionista deve necessariamente capire da che cosa dipende. Perché le imprese non stanno facendo domanda di credito, per esempio, non investono, non intraprendono. Ci sono degli elementi, dei fattori territoriali che fanno la differenza. Non bisogna pensare alla ripresa come qualcosa che sia un fenomeno omogeneo di un territorio, perché in Italia la ripresa potrà essere a macchia di lopardo, potranno partire comuni un po' alla volta, territori diversi e di formi, per cui ogni territorio si gioca la partita della ripresa in base alla capacità di creare innovazione, in base alla capacità di stimolare con strumenti anche legislativi gli imprenditori a riprendere la voglia di investire. Quindi ogni territorio può ripartire con tempi diversi. Questo non bisogna dimenticarselo e ovviamente su questo obiettivo bisogna tarare tutte le scelte che sia chi fa politica, chi fa l'imprenditore deve fare. Poi con il professor Berti e con gli altri tecnici abbiamo anche fatto un'analisi di come colmare un po' quella differenza tra l'imprenditore o l'utente, il cliente con la propria banca. Come è cambiato anche il sistema del credito in questi anni anche a seguito dei tanti crediti deteriorati, cioè di quei soldi che le banche hanno prestato e non li sono stati restituiti. Quindi la banca oggi tende a non prendersi più rischi e in questo c'è un cambio importante del rapporto tra cliente e banca. Dobbiamo ricordare che la Regione Marchi è una delle regioni colpite anche dal terremoto ma cosa possono fare le istituzioni? Parliamo ad esempio anche di tassazione alle imprese. Io ho un'idea molto chiara che emerge ancora più forte da quello che oggi abbiamo visto. Da questi dati è ancora più significativo il fatto che l'impresa tradizionale in modo particolare quella dell'edilizia stenta a riprendere da noi in modo molto forte. Questo settore si traina con sé l'arredamento, si traina tutto il settore, il terziario, si traina anche gran parte dell'artigianato tradizionale legato all'edilizia. Se non riprende quel settore secondo me gli effetti benefici di una ripresa economica, finanziaria che di fatto l'Italia già sta vivendo, le marche sconteranno. Allora come si fa ad aiutare quella ripresa? Io non sono molto convinto negli incentivi fiscali, magari nell'abbassamento della tassazione è sicuro ma la politica secondo me deve creare più le condizioni di libertà di intervento degli operatori aziendali. Cioè la politica deve creare regole del gioco sempre più semplici ma soprattutto dove la libertà di impresa riesca a muoversi con più facilità. Quindi per tradurlo in modo semplice, la Regione Marchi ha una legge regionale per l'urbanistica e le costruzioni civili ferma a 30 anni fa. A un mondo che non esiste più, addirittura al consumo del territorio con le lottizzazioni, con i piani regolatori di un certo tipo, questa legge è talmente inattuale che oggi frena che cosa? Frena la ristrutturazione che invece è uno strumento magari più diffuso, non è da grande impresa di immobiliare ma è diffuso, può far lavorare i settori artigianali, può dare segnale di ripresa dell'economia dal basso, però va creata una nuova normativa regionale che faciliti la ristrutturazione sia degli immobili civili che di quelli industriali e commerciali. Ecco, su questo la Regione può fare qualcosa e io lo dico onestamente da un po' di anni in tutte le sedi, ovviamente in quelle opportune, che intanto mentre aspettiamo San Gennaro ci sono delle cose che possiamo fare anche noi e sarebbe il caso di farle perché ogni rinvio crea e toglie opportunità di ripresa, toglie nuove imprese che funzionano, toglie nuove occupazioni e magari perdiamo anche la parte migliore di una generazione che se ne sta andando. Dunque, Carloni, riconquistare futuro è possibile? Senz'altro è possibile, ma non solo. Chi ha responsabilità deve in ogni caso creare fiducia e dare quel coraggio necessario che serve per trovare ognuno di noi la forza per tornare ad essere protagonista nella propria realtà, nel proprio territorio e nella propria vita. Grazie a tutti!